Ben ritrovati amici del centro meteo italiano. Nuvolosità in transito sulla penisola ma con solo residue piogge. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per mercoledì 29 dicembre. Locali piogge al mattino tra Calabria e Toscana, deboli nevicate sulle Alpi di confine ma acquate medio-alte. Variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni su Alpi di confine tra Calabria e Sicilia settentrionale, nubi sparse e schiarire altrove ma con tempo asciutto. In serata è notata precipitazione in graduale esaurimento ovunque con nuvolosità anche compatta al nord e maggiori spazi di sereno al centro-sud. Temperature minime senza variazioni di rilievo e massime il generale aumento su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Grazie a tutti.